Il grosso ramo di albero che si è spezzato e ha travolto la panchina presente sul sagrato della chiesa di Mercatello, questa mattina è ancora lì. Già così, ad occhio nudo, è evidente che le conseguenze di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri con il vento davanti alla chiesa di Santa Maria a mare poteva avere conseguenze più gravi. Ne è cosciente Bruno Pagano, il tredicenne che si trovava seduto qui su questa panchina e che oggi, passata la paura, racconta quanto è accaduto. Bruno era in compagnia di un'altra persona, un anziano, entrambi erano seduti sulla panchina quando hanno avvertito uno scricchiolio e subito dopo la caduta del ramo che per fortuna le ha travolti soltanto in parte causando al ragazzo una piccola ferita ancora visibile vicino all'orecchio. Maggiore, certamente, è stato lo spavento a quando è stato chiaro quello che era accaduto e aver capito di aver scampato così un bel pericolo. Bruno, tu eri qui ieri pomeriggio quando si è staccato l'albero? Sì, ero qui e all'improvviso ho sentito un fruscio di vento su tutto il collo. A fianco a me c'era un signore di cui già se n'era accorto, però io no. E voi avete sentito uno scricchiolio? Abbiamo sentito uno scricchiolio molto pesante e quello che mi ha fatto più paura. Il signore è riuscito a scappare e mi ha dato un avvertimento. Attenzione, attenzione, solo che io non avevo visto. Essendo che l'albero stava già quasi sulla mia testa, io non ho potuto alzare lo sguardo perché se n'avrei perso tempo. E sono riuscito a scappare da qua sotto, solo che mi ha comunque toccato a me, al signore. Il signore rosso che è qui sul collo? Qua, dietro l'orecchio ancora. E mi hanno riuscito a scappare da qua sotto e il signore anche ha un arrossamento qua dietro, però tutto a posto. E i bambini stanno bene, l'importante è che i bambini che stavano giocando a calcio... È stato un grande spavento. Sì, perché i bambini che stavano giocando a calcio stanno bene anche perché li conosco, hanno una voglia questi bambini. Ho detto, anzi ho detto al signore prima che è il papà di un bambino, ma con questo vento li facciamo giocare. Mandali a casa, è pericoloso, potrebbe cadere un albero. Mancava di averlo detto ed è caduto un albero. Per fortuna siamo qui a raccontare. Per fortuna sì, ieri ho visto una notizia, ho detto guarda oggi è arrivato, vedo se l'hanno tolto, anche perché è arrivato mio padre e mio fratello che sono vigile del fuoco. L'ho chiamato e ho detto papà senti io mi sono fatto male vicino all'albero, mi è caduta la piazzetta di mercatello. Vieni a vedere, chiama qualcuno, chiama i colleghi o qualcun altro ed è venuto ed è riuscito con le mani, lui è mio fratello, anche vigile del fuoco, con le mani a farlo cadere. L'ho messo in sicurezza in maniera tale che non fosse un pericolo per altri civili. Grazie a tutti.